Ciao, una grande prestazione contro la prima in classifica con un rigore parato e varie occasioni sventate. Com'è? Allora, questo dimostra che siamo entrate in campo decise, senza lasciarci prendere dall'ansia. Sono cose che possono capitare, un rigore fischiato al terzo minuto e al secondo tempo è un po' una cosa difficile. Comunque rientri dallo spogliatoio, rientri carico e potrebbe essere un brutto segnale, un brutto avvio di partita. Invece siamo riprese subito e questo dimostra comunque che quello che stiamo facendo negli allenamenti si sta portando in campo e si può sempre migliorare. Sei l'eroe di questa partita e sostituivi presutti per la prima partita intera. Sensazioni personali? Allora, ero molto agitata, anche dopo il rigore parato comunque la partita non era finita. Eravamo tutte molto agitate comunque perché sono giovane, l'assenza di Rossella è un'assenza importante, però personalmente mi sento soddisfatta di quello che ho fatto e della prestazione. Non mi definisco un eroe, semplicemente faccio quello che sul campo bisogna fare. Ciao, grazie, complimenti! Grazie!